Sconvolgimenti imprevedibili agiteranno le nuove puntate dell'ottava stagione del Paradiso delle Signore. Marta Guarnieri fa un inaspettato ritorno a Milano accompagnata dalla misteriosa Contessa Adelaide di Santerasmo, proprio nel momento in cui Vittorio Conti sembra aver conquistato finalmente il cuore di Matilde Frigerio. Vuoi sapere cosa succederà? Bene, allora segui il video fino alla fine. Cosa ha spinto l'ex moglie di Vittorio a fare ritorno in città insieme alla zia? Anticipazioni avventurose suggeriscono che la storia d'amore tra Vittorio e Matilde potrebbe trovarsi sull'orlo di un abisso. Ma andiamo con ordine. Marta Guarnieri farà il suo ritorno a Milano al fianco della Contessa Adelaide di Santerasmo, reduce da un viaggio in Svizzera per riconquistare la fiducia della figlia Odile. L'inaspettato rientro di Marta lascerà tutti senza parole, considerando che la giovane aveva abbandonato la città per intraprendere una nuova carriera negli Stati Uniti. In un incontro avvenuto nella scorsa stagione, Marta e Vittorio avevano sigillato la fine della loro intensa relazione. Una relazione che ha lasciato il segno profondo in Vittorio, incapace per lungo tempo di accettare e di dover rinunciare al grande amore che provava per Marta. Ma ora, cosa la riporta indietro? Poco prima del clamoroso ritorno di Marta, Vittorio ha finalmente dichiarato il suo amore a Matilde grazie all'intervento di Flora Gentile Ravasi, orchestratrice di un piano che ha portato i due a confessare i loro sentimenti. Matilde ha abbandonato l'idea di partire per il Giappone, ma la strada per la felicità con Vittorio si presenta tutt'altro che agevole. Il marito di Matilde, Tancredi di Santerasmo, ossessionato dalla gelosia, minaccerà persino di denunciarla per adulterio. Nonostante le sfide, Vittorio e Matilde decidono di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, ma l'inaspettato ritorno di Marta alla villa cambierà tutto, portando conseguenze imprevedibili. Nel frattempo, Tancredi non riuscirà più a nascondere i suoi segreti e confesserà a Marta e Adelaide le sue azioni nei confronti di Matilde. Come reagiranno zia e nipote di fronte a questa terribile verità? Una cosa è certa, dopo la confessione di Tancredi, Adelaide farà di tutto per evitare uno scandalo che possa distruggere la sua famiglia. Dopo un lungo periodo, Vittorio e Marta si troveranno nuovamente faccia a faccia. Ma sarà davvero tutto finito tra gli ex coniugi conti? Marta ha un piano ben preciso, infatti. Se Vittorio sarà totalmente preso dalla Frigerio, Marta avrà un'idea per aiutare il cugino Tancredi a dimenticare Matilde. La Frigerio deciderà di assecondarla, non intuendo il suo secondo fine, prendendo una decisione molto importante. Poi, a sorpresa, si presenterà da Vittorio. Dunque Matilde partirà per il Giappone e Tancredi lo scoprirà solo a fatto avvenuto. Via libera per Marta dunque per prendere due piccioni con una fava. Allontanare la sua rivale e riprendersi suo marito, o semplice altruismo? Non contento della situazione, Guarnieri chiederà a Vittorio di stare lontano da Santerasmo, ciò per evitare ulteriori tensioni. E Conti verrà a sapere che è stata proprio la sua ex moglie a suggerire l'idea a Matilde di allontanarsi per un po' da Milano. Cosa succederà ancora lo scopriremo nei prossimi video Attiva la campanellina per restare sempre aggiornato. Se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale. Grazie. Grazie.